amici è settembre e per me da quando sono piccolo vuol dire solo una cosa funghi è l'ingrediente simbolo di questa stagione in tanti mi chiedete sempre se i funghi fanno bene la risposta è sì sono alleati del sistema immunitario soprattutto nel cambio di stagione tra estate e autunno sono ipocalorici ricchi di importanti nutrienti come rame il ferro il potassio e vitamine del gruppo B senza dimenticare le fibre l'importante è che siano sempre scelti con cura e ben conservati oggi insieme agli amici di Orospin useremo i prataglioli e prepareremo una pirofila al forno con patate melanzane e feta come prima cosa ho pulito bene i funghi e lavato le patate mi raccomando lasciamo la buccia tagliamo poi le patate melanzane funghi e feta più o meno della stessa dimensione versiamo tutto poi in una bowl e condiamo con olio sale e pepe grazie a tutti grazie a tutti sale e pepe grazie a tutti ecco qui mettiamo tutto in una pirofila monoporzione leggermente oliata e cuociamo a 180 gradi per 30 minuti ed ecco che il nostro piatto è pronto appena sfornato ha un profumo davvero delizioso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti